La domanda che mi faccio, se io vado al ristorante a pranzo, tutto a posto, se poi vuole fare l'aperitivo alle 6 e mezza, non me lo fanno fare. Qual è la differenza? Io non l'ho capita, ma è un mio limite ovviamente. È di tutela, è di tutela. Non è difficile capire il perché. Perché cercano, sbagliando probabilmente, ma di trovare un equilibrio tra i divieti e la sopravvivenza delle attività commerciali. Quindi, se faccio chiudere il bar, sparisce il bar, fallisce. Allora, fino alle 18. Il ristorante a mezzogiorno... Quando cala la notte il virus è più aggressivo? No, no, no. E questa è l'unica critica profonda che uno deve fare. Sono tutte iniziative non per bloccare il virus, ma per tranquillizzare l'opinione pubblica. Questa è la realtà. Mettiamocelo bene. Nessuna di queste cose veramente serve a bloccare il virus. Castaldo, è così ci stanno tranquillizzando? Che poi non so se ci tranquillizzano tanto. Beh, ci provano, ci provano. Io sarei più tranquillo se i bar fossero aperti sempre, però vabbè. Eh, ma quello... Però quello è più poverissimo. Sentiamo un attimo, Castaldo, che parla...